E la frase è la seguente, quella relativa a Draghi che diventa Presidente del Consiglio o che resta Presidente del Consiglio o che diventa Presidente della Repubblica. A parte il fatto che sembra che esista solo Draghi, lo dico con rispetto nei confronti del Presidente Draghi, ma magari c'è pure qualcun altro capace. Alessio, la frase... La soluzione sarebbe stata confermare Mattarella ancora per un anno se questo non è possibile. Va bene Draghi, il quale potrebbe guidare il convoglio anche dal Quirinale. Allora, Draghi che guida il convoglio dal Quirinale, Bersani significa... E poi c'è un Presidente del Consiglio che, diciamo così, è commissariato. Ma la cosa che a me più colpisce è quella relativa a Mattarella. Me la sa spiegare lei? Qualcuno chiama Mattarella e gli dice guarda un annetto però, non un giorno di più. È stato garbato non dirgli anche l'ora. Perché, vabbè un anno, ma precisiamo l'ora, pomeriggio, un mattino, per il tè. Ma qui io direi a Giorgetti e a quelli che... Fatevelo di legno il Presidente della Repubblica. Voglio dire, visto che qui la Costituzione ne frega più niente a nessuno. Tutti ci hanno in testa di subordinare queste scelte a delle prospettive politiche. Adesso Giorgetti c'ha il problema, che io gli faccio auguri sinceri, di riorientare la Lega e quindi questo si tiene. Salvini c'ha il problema opposto. Uno vuole andare a votare, l'altro non vuole andare a votare. Ma ecco, siccome è tutta gente, tutta eh, a cominciare da me, ma tutti questi che hanno giurato sulla Costituzione, per cortesia vorrebbero leggersela, eh? Vorrebbero leggersela perché hanno giurato su questa Costituzione. Chi perché ha fatto il Ministro, chi ha fatto il Vice Presidente, chi ha fatto... Quindi se la leggessero e la smettessero con queste cosucce qui, secondo me sarebbe meglio, eh? Grazie.